Allora, riprendiamo il discorso delle funzioni, cercando di vedere un po' di casi particolari. Questa slide qua cerca un po' di riassumere ciò che succede quando faccio una chiamata alla funzione. Quello che possiamo provare a fare è usare il Python Tutor, che ci permette di visualizzare i valori con il nostro programmino. Quindi faccio un po' di copia e incolla dentro Python Tutor del programma che abbiamo fatto prima. Ok. Qui mi chiede il valore del lato sotto. Siamo un 5. Qui mi fa vedere chiaramente il risultato finale. Lato 5, devo eseguire la funzione volume cubo, sono alla freccia rossa, quindi la riga che devo eseguire. Vado avanti in istruzione e mi fa vedere che entro dentro la funzione. Ma questa è una cosa che abbiamo già visto in debug, però su Python Tutor visualizziamo un po' meglio che cosa succede a questi valori. Sono dentro la funzione freccia rossa, volume cubo, con parametro A. Allora, ciò che è successo, noi abbiamo visto che A assumeva il valore dell'argomento. Ciò che succede internamente alla memoria di Python è questo. La variabile lato del programma principale continua a valere 5, il valore associato al valore 5. La variabile A viene inizializzata con riferimento allo stesso 5, allo stesso valore reale. Quindi non viene in realtà copiato il valore, ma si dice che in questo momento A e lato sono alias, sono sinonimi. Sono due nomi diversi per fare riferimento esattamente allo stesso valore. Poi praticamente noi vediamo che c'è una variabile nuova in più inizializzata a quel valore. Poi eseguiamo l'istruzione v uguale al cubo, si crea una nuova variabile v. Faccio il return e qui Python Tutor mi fa vedere un passaggio in più, mi fa vedere che è stato creato un valore di ritorno. Allora questo 125 di nuovo è un valore che è associato sia alla variabile v, che è una variabile che esiste dentro la funzione ma stiamo per distruggerla, sia al valore di ritorno che invece è l'unica cosa che sopravviverà alla fine della chiamata. Questo stesso valore è condiviso a due nomi diversi, a due sinonimi, può essere raggiunto in due modi diversi. Quando faccio il return e torno sopra, questo 125, adesso chiaramente la grafica non fa vedere, ma questo è esattamente lo stesso 125 di prima, non è una sua copia, è esattamente lo stesso valore e poi lo stampiamo. Allora perché esisto su quel valore? Adesso sono solo dei numeri, quindi avere un 125 scritto qui o avere un altro 125 scritto là è sempre lo stesso valore, sono uguali, sono identici. Ma quando la settimana prossima cominceremo a vedere strutture di dati più complesse, sarà molto diverso avere la stessa struttura di dati o una copia identica della struttura di dati. Non voglio anticipare troppe cose, ma già adesso possiamo vedere una variante. Vedete, se io scrivessi a uguale 0, cosa succederebbe secondo voi? Qui dentro la funzione ho scritto a uguale 0, ricordiamoci che a uguale 0 era un sinonimo di lato, quindi puntava lo stesso valore di lato. Torniamo su, me rimetto 5, lato vale 5, vado avanti, entro nella funzione, a e lato puntano entrambi a 5. Vabbè, adesso calcolerò v, ma chi se frega, sappiamo che funziona. La domanda che mi faccio è che cosa succede quando eseguo l'istruzione a uguale 0? Visto che a punta, condivide lo stesso valore float a cui fa riferimento la variabile lato. Allora, la cosa che ci si potrebbe aspettare, ma non succede, è che questo 5 diventi uno 0. E che quindi sia a che lato a questo punto varranno 0. A questo punto avrai modificato la variabile lato del programma chiamante, che è una cosa brutta. In realtà non funziona così. Quando io vedo a uguale 0, come ragiona Python nelle assegnazioni? Valuta il lato destro, 0. Crea un oggetto 0 e poi fa sì che la variabile a punti a questo nuovo oggetto 0. Non va a modificare l'oggetto 5. Non esiste proprio la possibilità di modificare un numero. Io sono 7, sono nato 7 e rimango 7. Non è che mi puoi modificare. Sono quel numero lì, sono quel valore lì. Quindi a uguale 0 non va a modificare il 5 facendolo diventare 0, ma va a creare un oggetto 0 e farà in modo che ha punti a 0. Allora, quando faccio questo, sto rompendo l'alias in qualche modo, lo sto rompendo la sinonimia. Se in questo momento lato ed A erano assolutamente intercambiabili, erano due modi diversi per raggiungere questo 5, andando avanti di un passo ho rotto questa condivisione. Lato continua a essere 5, nessuno l'ha mai toccato. Nessuno ha modificato ciò a cui stava puntando la variabile lato perché non è visibile la variabile lato della funzione e nessuno ha modificato il valore di 5 perché il valore di 5 è 5 e sarà 5 per tutta la vita. Non può essere modificato. Un numero è immutabile. Una stringa è immutabile. Questo l'abbiamo ripetuto più volte e adesso cominciamo a capire che implicazioni ha. Quindi non ho creato una variabile nuova, ho semplicemente ridefinito la variabile che avevo già. Nel ridefinirla mi sono perso eventuali condivisioni che questa variabile avesse verso dei valori condivisi. Questo per ora non ci cambia la vita. Però cominciamo a metterci in testa che se dentro una funzione io riassegno... Eh, ce l'ho fatto. Ho cliccato dove non dovevo. Dove? Dove siamo? Non si vede più. Vabbè, ho fatto casino, scusatemi. Ok, abbiamo messo l'a uguale a 0. Ricordiamo il punto di partenza di cui eravamo prima. Quindi ci metto 5. Ok, eravamo qua. Quindi tutte le volte in cui all'interno di una funzione riassegno, modifico il valore di un parametro sto rompendo questa equivalenza. Da un lato mi dice, vabbè, l'ho voluto io, A non punta più, non vale più quanto vale valato perché l'ho cambiato io, ho deciso io di cambiarlo. Ma dall'altro non posso aspettarmi che queste modifiche si propaghino all'indietro sul chiamante. Anche altre operazioni tipo A uguale a più 1, che non so. Voglio incrementare A di 1. Con l'idea che sto incrementando il lato, qui sembra quasi... Ma sì, ma non stai creando uno 0, quindi un nuovo oggetto, cioè solamente aggiungendo 1 ad A. Ma non è vero. Python continua a ragionare sempre a modo suo. Per cui arriviamo qua. e ciò che lui fa è prendere A, sommare 1 A che corrisponde a un 5, poi calcola 5 più 1 che fa 6, crea l'oggetto 6 e fa sì che A punti a questo nuovo oggetto 6. E quindi nuovamente questo 5 non viene modificato e questa freccia lato punta 5 non viene modificata. Quindi se facessi A uguale a più 1 non va a incrementare lato, incrementa A. Però anche noi quando diciamo che A scrivere A uguale a più 1 sta incrementando A, stiamo dicendo una cosa che non è del tutto precisa, perché nella nostra mente sembra che sia la variabile A che cambia valore. In realtà non cambia valore A, ma viene creato un nuovo valore che corrisponde al valore incrementato. Il valore precedente o viene dimenticato, se non serve più, oppure rimane accessibile da altre eventuali variabili che lo condividono come alias, come sinonimo. La settimana prossima questo comincerà a essere un rompicapo e non solamente una curiosità. Qui non ci aspettiamo mai che modificando il valore dei parametri possiamo modificare il valore degli argomenti. Punto. Per poterlo fare avremmo bisogno di argomenti che non sono immutabili. Come conseguenza il suggerimento che si dà è è vero che tu puoi modificare un parametro ma per non farti del male non farlo. Se tanto hai visto che non funziona se ti serve cambiare un valore fare un'elaborazione a partire da una variabile crea una diversa. Quindi se davvero mi serviva fare A più 1 senti il risultato chiamiamolo B così non c'è dubbio. Il valore del parametro che mi entra nella funzione lo considero come una costante. Lo tratto come una costante. Non sono obbligato. Però a modificarlo rischio di interpretare male ciò che in realtà succede. Allora se invece uso variabili diverse e nella mia mente un argomento è scusate un parametro è come se fosse una costante che viene inizializzata all'inizio della funzione e io lo uso tutte le volte che mi serve ma cerco di non modificarlo è più semplice per me evito problemi. Quindi il suggerimento è proprio quello di non modificare non mettere mai sulla sinistra dell'uguale una variabile che sia anche un parametro della funzione. E così non mi devo porre questi problemi che abbiamo visto dell'Alias. Quando io costruisco una funzione sarebbe utile che chi usa la funzione torno qua sul codice possa accedere facilmente alla documentazione della funzione stessa. Noi siamo abituati che se scriviamo che non so view uguale al minimo tra 2 e 3 quando vado sopra il mouse con il minimo mi fa vedere alla funzione minimo mi fa vedere la documentazione di questa funzione. Allora noi come facciamo e quindi anche quando sarò nel programma main e chiamo la funzione volume cubo in realtà qua mi sta solamente dicendo senti questa funzione è un parametro che si chiama A ma non mi dà la spiegazione. Vabbè tu dici l'ho scritto qua sopra nel commento però devo andare su dove ho definito la funzione leggere il commento e dire ah vabbè allora un argomento o float devo dire che questo argomento corrisponde si chiama A perché qua sopra non c'è scritto quindi questo commento qui è vero che descrive ciò che fa la funzione ma non è che sia una documentazione particolarmente precisa o comoda perché già lo dovrei forse mettere dentro la funzione perché è messo qua in testa con un programma che fa anche altre cose allora esiste una scorciatoia per inserire la documentazione all'interno della funzione stessa allora nella slide come nel libro vi fa vedere scrivi un commento subito prima in realtà Python suggerisce invece di usare un'altra convenzione che è quella di una stringa tripla subito dopo la funzione stessa adesso rifaccio lentamente ciò che ho appena fatto io scrivo una ricordate che le stringhe si possono anche costruire tra tripli apici e questo permette di andare su più linee per convenzione se la prima istruzione dentro il corpo di una funzione è una stringa multilinee viene chiamata stringa di documentazione non cambia il programma noi abbiamo già usato queste stringhe triple come fossero commenti perché poi calco una stringa la butto via perché non la uso da nessuna parte però se la scrivo come prima istruzione di una funzione i vari diciamo così tool come l'editor di PyCharm capisce che quella è la documentazione della funzione stessa quindi il luogo migliore in cui scrivo la documentazione di una funzione è dentro la funzione stessa dentro la documentation string io dopo che ho scritto i tre apici aperti i tre apici chiusi ho fatto invio e in automatico PyCharm mi ha messo questi codicilli param return che ha preso ovviamente dalla definizione della funzione che ho appena scritto in cui io posso descrivere che cosa succede allora io posso dire qua sopra dove c'è la riga vuota calcola il volume di un cubo dato il lato questa è la descrizione poi nella riga sotto param a descrivo che cos'è il parametro a la lunghezza del lato in return scriverò che è il volume del cubo allora se faccio così quando vado col mouse sopra la funzione lui non solo mi scrive definizione volume cubo che cos'è ma mi riporta calcola il volume di un cubo dato il lato devo mettere una riga vuota se no mi scrive questa cosa qua due volte mi posso parlare con una riga vuota per dire qui finisce la spiegazione poi sotto c'è l'elenco dei parametri calcola il volume di un cubo dato il lato parametro a lunghezza del lato ritorno al volume del cubo quindi riesco a costruire anche per le funzioni che faccio io semplicemente inserendo questa documentation string la documentazione l'ho vista nella definizione della funzione ma quando nel programma principale userò la funzione chiaramente l'editor mi fa vedere va a recuperare questa informazione e me la fa vedere quindi se non mi ricordo più cos'è il secondo parametro o quanti parametri riceve così come quando scrivo volume cubo tra parentesi lui si ricorda le variabili in alcuni casi mi fa anche vedere la documentazione adesso non sempre la fa vedere adesso non me la fa vedere a volte compare anche mentre sto scrivendo il codice mi compare la spiegazione del primo argomento che cos'è secondo argomento che cos'è e così via quindi mi aiuta anche a scrivere la funzione stessa ok? quindi questo è un dettaglio ma serve soprattutto se poi questa funzione la volessimo riutilizzare anche in altri programmi noi adesso abbiamo scritto una funzione dentro cubo.py e l'abbiamo richiamata usata direttamente qua all'interno dello stesso programma però facendo così stiamo un po' limitando le possibilità di riutilizzare questa funzione cioè se io avessi tanti programmi che hanno bisogno di usare il cubo dovrei ogni volta fare copia ancora di quella funzione no la cosa che posso fare è separare in due file diversi o in più file diversi da una parte la definizione delle funzioni che di fatto diventa una mia libreria di funzioni e dall'altra parte il programma principale che le usa e in python è banale questa cosa basta creare un file diverso chiamiamolo main perché lo penso come programma principale quindi diciamo che questo è il programma principale per l'esercizio del cubo dell'esempio dei cubi e quindi io voglio mettere in questo file main in realtà queste istruzioni l'ipotenura la commento perché non mi serve voglio mettere queste istruzioni qua cioè leggi il lato calcolo il volume e stampalo le tolgo dal mio file cubo e le metto nel file main quindi la mia intenzione è nel file cubo ci sono solamente le definizioni delle funzioni con la loro documentazione non ci sono istruzioni eseguibili queste qua non guardiatele le ho commentato nel file main invece ho solo il programma principale che richiama le singole funzioni che ho definito dall'altra parte ciò che manca è di dire che questa funzione c'è è definita è definita nell'altro file ma questo lo posso fare semplicemente dicendo from cubo import volume cubo cioè faccio una import del mio stesso file il mio file cubo.py è diventato un modulo python che posso importare dentro altri programmi dove cubo c'è il nome del modulo altro non è che il nome del file senza ascensione .py non ho bisogno di fare nulla di particolare questo fin tanto che il file cubo è nella stessa cartella del file principale lo posso fare quindi posso spezzare un programma su più file in modo così semplice diretto dimmi allora si possono in questo momento stiamo importando funzioni da definiti in un file dello stesso progetto per poterli importare da progetti diversi dovrei andare a specificare all'interprete python in quale cartella li può andare a trovare si può fare ma è più complicato posso creare una sottocartella ad esempio quindi lo chiamo sottocartella .cube nome della cartella .nome del modulo chiaramente qui c'è tutto l'universo di possibilità si può fare ma è un po' più complicato adesso per noi ci può bastare e quindi se faccio se eseguo questa volta il programma main e non il programma cubo lui funziona come prima se faccio questo giochino però devo solo fare attenzione a fare in modo che nel file cubo non ci sia nulla al di fuori delle funzioni perché se io avessi qua anche su un'istruzione qua dentro questa istruzione viene eseguita nel momento in cui faccio import quindi se faccio run di cubo è ovvio che mi stampa x e se ne frega delle funzioni e mi stampa questa x se eseguo main purtroppo quando fa import del modulo cubo stampa le x e poi chiede lato queste x qua sono il risultato della print che avevamo messo per sbaglio dentro il modulo cubo quando fa un import lui deve leggersi il file allora se ci sono delle definizioni di funzioni come dicevamo prima le legge le mette da parte se ci sono delle istruzioni al di fuori dei def le esegue le esegue sia che stiamo eseguendo questo file separatamente sia che stiamo importando questo file è un altro modulo quindi in qualche modo è una questione di disciplina nostra il programma principale lo mettiamo in un file le funzioni le mettiamo in un file diverso quindi questa è la prima osservazione se ci serve noi non praticamente se volete lo potete usare per fare programmi più complessi articolare su più file ai fini di questo corso dell'esame non è richiesto alla fine l'esame sarà un file unico un'altra cosa a cui dobbiamo fare attenzione quindi adesso rimetto queste istruzioni anche nel primo file io prima ho inserito il programma principale in fondo dopo le funzioni cosa sarebbe successo se l'avessi inserito all'inizio prima metto il programma poi metto le funzioni allora in questo caso mi dà un errore perché mi dice che la funzione volume cubo non è definita non è ancora definita perché la definisco a tre righe sotto ma lui non può sapere cosa farò sotto lui il programma lo esegue lo esegue dalla prima riga verso l'ultima in ordine quindi è necessario prima definire le funzioni e poi solo dopo che definire le funzioni scrivere il codice che usa che richiama quelle funzioni ok? quindi per questo il programma principale lo scriviamo sempre in fondo e non all'inizio perché altrimenti questa funzione qua non è definita nel caso del main esterno la funzione qua volume cubo è definita perché in realtà quando ho fatto questa import è come se avessi letto l'intero file quindi ho definito tutte le funzioni e da questo momento in poi sono definite ovviamente anche facendo una import da un file diverso la documentazione viene portata dietro quindi non ci posso accedere ok adesso veniamo alla domanda che mi avete fatto prima dell'intervallo sul fatto di cosa succede se io avessi un numero di parametri variabili diversi l'esempio che è stato fatto nella domanda era la funzione range io so che si può chiamare con un parametro 2 o 3 ma anche la funzione round posso chiamarla con un valore solo oppure con 2 allora se io volessi creare una funzione che accetta un numero di variabili di parametri diciamo variabile come posso fare allora in realtà posso fare posso usare due meccanismi diversi per rendere i parametri opzionali i due meccanismi per rendere un parametro opzionale sono dargli un valore di default per cui se il parametro non viene specificato viene assunto quel valore di default oppure dargli un nome indicare che questo parametro può essere passato per nome vediamolo anche qua in un esempio adesso scusate fatemi rimettere il programma in modo che non dia errore immaginiamo di dover fare una funzione che calcoli il volume del cubo ma anche un volume di una figura geometrica su più dimensioni ok quindi un volume di un di un ipercubo o un cubo generalizzato dove ho il lato e posso avere le dimensioni quindi dimensioni uguale a 2 sarà un quadrato dimensioni uguali a 3 sarà un cubo dimensioni uguali a 4 sarà un ipercubo e così via e quindi la misura non si chiama più volume diciamo misura perché nel caso di dimensione 2 si chiama area nel caso di dimensione 3 si chiama volume nel caso di dimensione 4 non lo so come si chiama ma è la misura dell'estensione di questo ipercubo però noi vogliamo fare in modo che il caso normale sia quello di un cubo allora quello che possiamo indicare è un valore di default al parametro dimensioni poi il calcolo sarà banale return lato elevato al numero di dimensioni se le dimensioni sono 2 l'area è lato al quadrato se le dimensioni sono 3 è il volume lato al cubo eccetera quindi questa funzione misura dell'ipercubo può essere chiamata con un parametro solo solo specificando il lato e il secondo parametro sottinteso assumerà il valore di 3 perché io gli ho specificato questo valore di default se invece specifico un secondo parametro ovviamente questo verrà utilizzato quindi io posso stampare togliamo questo qua che è brutto posso dire che area di un quadrato di lato 2 stampo il valore di tolgo f facciamola come due parametri diversi della print così è più facile si chiamava misura dell'ipercubo con lato 2 e dimensione 2 facciamo diciamo lato 7 dai se non si confondano questi 2 e 2 non sappiamo più che cosa sono quindi questa misura specifichiamo come primo parametro il lato il secondo parametro il numero di dimensioni oppure posso stampare il volume di un cubo di lato 7 lo posso stampare sia specificando che la dimensione è 3 sia semplicemente dimenticando o mettendo il secondo parametro passando un parametro solo allora in questo caso non avrò un errore per il fatto di aver dimenticato il secondo parametro perché avevo previsto che questo parametro potesse essere assente avendogli assegnato un valore di default e beh ovviamente posso aggiungere anche la misura di un ipercubo di lato 7 avrà bisogno del secondo parametro che è il 4 quindi io ho definito una funzione con due parametri la posso chiamare con due argomenti normalmente o con un argomento solo in quanto il secondo parametro è opzionale ok e posso anche qua definire anche più parametri opzionali ovviamente devo andare in ordine nel senso che se definisco un parametro obbligatorio e due opzionali non posso specificare il terzo senza specificare il secondo se specifico due parametri lui prenderà il primo e il secondo e prenderà il valore di default del terzo non può capire non può saltarne uno o meglio non può saltarne uno con il passaggio puramente posizionale dei parametri cioè il primo argomento va nel primo parametro il secondo argomento va nel secondo parametro se ci sono parametri aggiuntivi di cui non c'è un argomento corrispondente e questi hanno un valore di default viene preso il valore di default altrimenti errore ma se io invece volessi definire una funzione che calcola un'area di un triangolo ad esempio rettangolo in cui il passo il cateto 1 cateto 2 è l'ipotenusa tutti e tre opzionali quindi magari metto un valore di default uguale a 0 su tutti e tre perché magari la mia funzione è abbastanza furba da dire se ti do i due cateti una certa formula per l'area se ti do un cateto l'ipotenusa usi una formula diversa basta che tu mi dia due visto che so che è rettangolo basta che tu mi dia due lati e io ti so calcolare l'area e quindi ad esempio metto come valore di default 0 così lo posso riconoscere poi magari ragioniamo un altro giorno su qual è il valore di default per un parametro mancante per ora 0 mi sembra sensato e quindi se l'ipotenusa è 0 allora vuol dire che ho i due cateti e allora l'area non sarà altro che return cateto 1 per cateto 2 diviso 2 perché un cateto lavora come base l'altro lavora come altezza altrimenti se invece l'ipotenusa non è 0 magari ho il cateto 1 uguale 0 e quello 2 diverso da 0 allora se il cateto 1 fosse uguale 0 allora vuol dire che devo calcolare l'area dato l'ipotenusa e uno dei due cateti si fa in qualche modo scusate l'if io non lo so tanto ma allora a questo punto mi calcolo il secondo cateto e mi ricondugo al caso precedente posso calcolare il secondo cateto col teorema di Pitagora e no però non va bene perché ho fatto il contrario va bene allora devo fare la matta SQRT dell'ipotenusa al quadrato meno il cateto 2 al quadrato e questo sarebbe il cateto 1 chiamiamolo cat 1 non lo chiamo cat 1 perché mi sono dato la regola che non voglio modificare i valori dei parametri quindi lo chiamo in un altro modo e a questo punto posso ritornare cat 1 per cat 2 diviso 2 e così via insomma ma il focus non è tanto sul risolvere i triangoli c'è ancora un altro caso chiaramente ci sono ancora altri due casi in cui il cateto 2 è uguale a 0 in cui nulla sia 0 usiamo l'istruzione pass che avevamo visto un po' di volte fa per dire beh senti poi ci penso per ora non fare nulla in questo caso ma non darmi errore di sintassi perché ne manca un pezzo perché il nostro focus adesso il mio focus adesso è sul chiedermi come faccio quando io calcolo un'area di un triangolo visto che ho tre argomenti sono tutti e tre opzionali e se passo uno o tre allora vedete che PyCharm mi dice guarda il primo argomento cateto 1 dal 0 cateto 2 lo metti in grassetto vuol dire che questo 3 corrisponde al cateto 2 e l'1 corrispondeva al cateto 1 quindi se io scrivo uno o tre sto spassando i due cateti cateto 1 cateto 2 il primo e il secondo parametro però come faccio con questa funzione a specificare un cateto e l'ipotenusa cioè saltando il parametro di mezzo non posso in modo posizionale perché devo andare in ordine allora posso farlo passando i parametri per nome potrei dire anche molto meglio soprattutto quando una funzione ha dei parametri opzionali specificarli quindi io posso dire cateto 1 uguale 3 ipotenusa uguale 5 quindi in questo caso ho specificato il primo e il terzo parametro non ho specificato il secondo e quindi il secondo varrà 0 quindi riassumendo stiamo mescolando stiamo combinando così gli effetti di due regolette sintattiche la prima regoletta sintattica è che un parametro può essere definito opzionale se gli assegna un valore di default punto seconda regoletta quando io chiamo una funzione gli argomenti di questa funzione possono essere forniti in modo posizionale cioè il primo corrisponde al primo il secondo corrisponde al primo oppure per nome questa regola posizionale per nome vale sempre io avrei benissimo potuto scrivere la mia funzione volume cubo avrei potuto scrivere volume cubo a uguale 8 cioè io posso tranquillamente usare il passaggio di parametri per nome anche quando quel parametro è obbligatorio è la mia scelta una scelta di leggibilità soprattutto è chiaro che se ho uno due tre parametri obbligatori è uno spreco di caratteri andare a scrivere il nome dei parametri della funzione e quindi li passo semplicemente separandoli da virgole ma quando comincio a avere uno o due o più parametri opzionali per evitare di non capire più nulla è fortemente consigliato usare il passaggio per nome il passaggio per nome mi permette di selezionare a quali tre parametri opzionali assegno un valore e quali invece posso saltare quindi troveremo raramente ma ci sono delle funzioni che hanno una lunga lista di parametri opzionali e questi saremo obbligati a indicarli per nome ma è anche più chiaro la stessa funzione print a cui posso specificare separatore è se uguale a cui posso specificare terminatore and uguale così non mi confondo anch'io sul fatto che quel parametro lì è il carattere terminatore piuttosto che invece un dato in più da stampare ok però sono semplicemente una combinazione di questi due fenomeni la possibilità di dare un valore di default e la possibilità di specificare i parametri per nome io posso specificare per nome un parametro anche obbligatorio ovviamente il numero quando io chiamo una funzione python verificherà come abbiamo già visto prima che abbia fornito almeno tanti argomenti quanti sono i parametri obbligatori e non abbia fornito più argomenti rispetto alla somma di tutti i parametri obbligatori e facoltativi cioè lui deve in qualche modo inizializzare questi parametri tutti non avere valori che non servono a nulla in più non avere argomenti in eccesso e non avere neanche argomenti in difetto rispetto ai parametri obbligatori se voi andate a leggere qual è la regoletta fine di dettaglio con cui python fa queste associazioni occupa tre quarti di pagina ma intuitivamente direi che è chiaro cosa possiamo fare quali sono i modi corretti di chiamare queste funzioni e quindi possiamo appunto chiamare vedete qua c'è un esempio di una funzione sui numeri complessi che ha due parametri entrambi facoltativi qui viene chiamato con un parametro solo che vale zero e quindi questo zero viene associato al parametro real mentre il parametro immaginario viene sul parametro immaginario viene assunto il valore zero in quest'altro caso nel secondo caso la componente immaginaria vale cinque la componente reale non è specificata e quindi assume il valore di default pari a zero nel terzo caso specifico la componente reale col valore tre non specifico la componente immaginaria e quindi prenderò il valore zero il terzo esempio e il primo esempio sono la stessa cosa cioè do un valore esplicito che in questo caso era zero in quell'altro tre al primo parametro e non specifico il secondo lasciando quindi l'uso del valore di default come sempre pensiamo sempre sia alla flessibilità di poter fare tante cose ma anche soprattutto alla leggibilità ok non cerchiamo di fare troppo i furbi sfruttando queste cose ok un'altra diciamo così variante sull'uso delle funzioni quindi siamo partiti dicendo una funzione dei parametri poi abbiamo visto questi parametri che in realtà sono degli sinonimi che si possono poi rompere se non faccio attenzione rispetto agli argomenti abbiamo visto che i parametri possono essere opzionali possono essere passati per nome c'è ancora un tabù che dobbiamo rompere che è quello sul valore di ritorno avevamo detto inizialmente il valore di ritorno è unico in realtà c'è un trucco per far sì che una funzione possa restituire più di un valore allora l'istruzione return lei è molto chiara return una cosa oppure zero cose posso scrivere return senza nulla oppure return è un'espressione una variabile però se io avessi una funzione che deve restituire due valori non so mi viene in mente l'esercizio che c'era nel laboratorio l'altro giorno dei biglietti venduti supponiamo che quel calcolo venga fatto dentro una funzione quella funzione mi deve dire quanti biglietti sono rimasti e quanti clienti c'erano sono due informazioni che poi dovrò stampare sono rimasti tre biglietti e sono passati otto clienti come faccio a sostituire due valori da una funzione anticipiamo un attimo una cosa che vedremo meglio la settimana prossima posso costruire un valore composto quindi la return mi permette di restituire un valore solo però se io ho un modo per costruire un valore composto che sull'interno ha più componenti restituisco un valore solo che però di cui poi all'interno però posso avere più valori è il modo più semplice di fare questo in python poi ne scopriremo degli altri è quello di costruire una cosiddetta tupla tupla è una parola strana non credo esista in italiano però immaginate che è la generalizzazione di coppia tripla quadrupla eccetera eccetera tupla ennupla in italiano diremmo ennupla nel linguaggio viene chiamata tuple in inglese o tupla mal tradotto in italiano una tupla che cos'è? vabbè è il concetto che abbiamo di coppia o di terna di valori aperta tonda metto più valori chiusa tonda quello è una coppia di due valori che corrisponde a un valore unico in qualche modo se io lo volessi vedere sul python tutor posso scrivere che a uguale 2 cosa sto scrivendo qua 2,3 mi fa vedere poi la settimana prossima queste cose le vedremo meglio mi fa vedere che la variabile a punta a un valore unico che è questa scatolina gialla questo valore a sua volta contiene dei sottovalori va in varie posizioni allora io posso ritornare a una funzione non il 2 o il 3 ma una tupla che contiene nella prima posizione il 2 e nella seconda posizione il 3 e dove è andato? non c'è il pezzo che manca e quando chiamo la funzione posso salvare le varie componenti di questa tupla in varie variabili vediamo un esempio di una funzione stupida che non serve a niente che chiamo incrementa decrementa cioè gli passa un numero x e mi restituisce x più 1 e x meno 1 ok? quindi il valore incrementato sarà x più 1 il valore decrementato uguale x meno 1 e ritorna tutte e due quindi il valore incrementato e il valore decrementato questa è la funzione il programma principale assegno a uguale 7 e poi chiamo la funzione incrementa decrementa su a questa funzione restituisce una coppia di valori questa coppia di valori la posso memorizzare in una coppia di variabili no, bc quindi un'estensione della sintesi di assegnazione in cui sulla sinistra dell'uguale anziché avere una variabile unica ho una tupla di variabili si chiama assegnazione in italiano non riesco a tradurlo con destrutturazione del dato ma fa lo stesso non importa come si chiama il concetto è che se so che una funzione mi ritorna una coppia di valori io posso devo memorizzare questi due valori in due variabili diverse e quindi mi aspetto che alla fine dell'esecuzione di questo programma se a valeva 7 b vale 8 e c vale 6 se vogliamo vedere passo alla volta cosa succede facciamo spazio ok allora definito questa funzione assegno il valore da chiamo la funzione ovviamente x viene assegnato come sinonimo di a lo sappiamo già calcolerò la variabile incremento crea un nuovo oggetto 8 7 più 1 lo memorizza in inc crea un nuovo oggetto 6 cioè 7 meno 1 lo memorizza in dec e poi c'è il passaggio di valore di ritorno che costruisce una coppia di valori quel quadratino giallo e si predispone per ritornarlo il chiamante e questa coppia di valori condivide sia il valore rispettivamente nella prima posizione il valore di inc e il valore di dec quindi praticamente nella prima posizione di questa coppia ci va il valore attuale di inc cioè è un sinonimo di dire inc e la seconda posizione c'è un sinonimo rispetto a dec quindi se io andassi a curiosare dentro questa tupla ci vedrei 8 e 6 questa tupla viene restituita come un oggetto unico un pacchetto unico e quindi la return non si lamenta del fatto che sto ritornando due valori perché la return vede un valore solo vedete che il valore di ritorno è uno solo qui c'è una freccia sola poi il trucco è che questa freccia va in uno scatolino che a sua volta ha più frecce ma il valore di ritorno è uno solo questo singolo valore di ritorno viene riversato nelle variabili b e c come effetto di questa assegnazione qua quindi noi stiamo usando un tipo di dato che non conosciamo ancora che è la tupla ma lo stiamo usando in un modo molto semplice e molto trasparente impacco dei valori e li spacchetto subito dopo e quindi in questo modo possono costruire delle funzioni che ricevono più valori quindi hanno più parametri e questo era facile l'abbiamo sempre fatto ma anche restituiscono più valori è chiaro che il chiamante si deve ricordare di fare questa cosa se io non vedo cosa c'è dentro la funzione se non faccio questi passaggi col python tutor lo scatolino giallo non c'è proprio ho due valori inc e dec li ritorno tutti e due e li ho messi in due variabili che sono variabili normali quindi non abbiamo bisogno di capire il meccanismo delle tuple è chiaro che se facciamo se sbagliamo ad esempio chiamando questa funzione e situando un'altra variabile allora a questo punto questa w si ricorda contiene questa coppia di valori non sono più devo ricordarmi di spacchettare questi valori quando ritorno quindi se so che la funzione devo saperlo ovviamente che la funzione ritorna più valori non assegnerò un solo valore una sola variabile ma assegnerò un pacco di variabili l'ultimo dettaglio su questa cosa che può sembrare strano ma le parentesi non servono quindi la stessa cosa si può scrivere anche senza parentesi come si dice che in python ciò che fa la tupla è la virgola non è la parentesi e quindi a volte potete trovare il codice scritto così ma cosa sta succedendo qua semplicemente sta succedendo dietro le quinte che uso questo trucco per restituire più valori insieme lo restituisco nel return e li spacchetto nell'assegnazione che segue subito dopo quindi poi vi piace usare parentesi usate le parentesi preferite non metterle va bene lo stesso ovviamente ok qui direi a parte qua non c'è nulla di particolare ecco l'ultima cosa ma questa è semplicissima esiste anche il caso in cui una funzione non deve restituire nessun valore e allora in questo caso ma non c'è nessuna difficoltà return senza nulla quindi usiamo sempre l'istruzione return senza nulla e allora a questo punto non viene restituito nessun valore quindi io come chiamante non devo neanche provare a mettere quel valore dentro una variabile perché so già che non ci sarà nulla in realtà esiste viene generato se vogliamo provarci definiamo una funzione chiamiamola niente che fa return e basta se io provassi a mettere y uguale niente mi fa vedere che y prende un valore speciale che si chiama none none è un valore speciale di un tipo speciale di python che sta proprio per aumentare l'assenza di valori quindi normalmente non lo dovrei fare se so che niente non restituisce nulla lo chiamo semplicemente chiamo la funzione semplicemente senza usare il valore di ritorno se per sbaglio lo uso cerco di memorizzarlo allora troverò questo valore strano se cerco di usarlo per fare altro e vabbè verrò castigato perché a un certo punto dico y uguale niente memorizza questo none dentro y ma se cerco di farsi delle operazioni niente più uno none più uno è una somma tra due tipi incompatibili e quindi mi blocca qua però come sempre già da quando parlavamo tre ore fa delle scatole nere io devo sapere come prima cosa cosa entra e cosa esce da questa scatola e poi comportarmi di conseguenza preparare i valori corretti e gestire correttamente il valore di ritorno se c'è i valori di ritorno se ce n'è più di uno oppure semplicemente se non c'è nessun valore di ritorno chiamo la funzione e basta come facevo ad esempio con la print ecco l'ultimo un dettaglio che forse non ho detto prima è che tutte le istruzioni return ed è l'ultimo poi vi lascio tutte le istruzioni return sia quelle senza valore sia quelle con un valore sia quelle con una tupla di più valori interrompono l'esecuzione della funzione quindi se è una funzione anche molto lunga perché gestisce casi diversi noi avevamo cominciato a scrivere quella sui triangoli no? io quando arrivo a questa return la funzione viene interrotta il valore calcolato viene restituito e tutte le istruzioni successive lasciamo a perdere che qui sono in un else non verrebbero eseguite comunque ma tutte le istruzioni successive non vengono eseguite cioè si esce di brutto dalla funzione quindi tutte le volte che la funzione incontra return impacchetta il valore di ritorno e interrompe l'esecuzione cosa succede se una funzione invece non ha un'istruzione return o non incontra un'istruzione return allora è come se sottinteso come ultima istruzione ci fosse sempre un return senza nulla cioè se una funzione nella sua esecuzione arriva all'ultima istruzione nel blocco senza aver mai incontrato un comando return allora in automatico viene fatto un return di nulla di none quindi nel caso in cui mi aspettassi un valore me ne accorgo mi trovo tra le mani un none quando volevo un numero e quindi probabilmente il programma darà un errore subito dopo però questo mi semplifica un po' la vita perché se ho una funzione che effettivamente non deve restituire nessun valore non sono obbligato a scrivere un return inutile e sottinteso viene eseguito automaticamente in automatico il return di nessun valore al raggiungimento della fine dell'istruzione questo vuole anche dire che se ho una funzione che deve restituire un valore allora io dovrò garantire che un return lo incontri all'inizio a metà in fondo ma perché devo restituire qualcosa se non incontro un return vuol dire che ho dimenticato qualche caso particolare e la funzione farà un return di niente di none e poi il chiamante si deve gestire questo none ok io direi che l'argomento successivo è un pochino più ampio e quindi ve lo potrei rimandare la volta prossima vi ricordo ancora di votare per gli esercizi che volete che risolviamo insieme domani ok ci vediamo domani online grazie